E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, ben ritrovati in questo tempo di Pasqua Vogliamo e abbiamo onorato in un modo particolare la settimana scorsa già la Beata Vergine Maria che come vedete mi accompagna sempre nelle nostre trasmissioni con l'immagine della Madonna di Fatima La Madonna che era tanto cara anche a San Giovanni Paolo II E questo tempo, mese di maggio poi in modo particolare con anche la festa della mamma è un tempo nel quale noi vogliamo, come diceva San Filippo Neri Onorare lei che è il nostro amore, la nostra consolazione, la mamma nostra Ecco, vogliamo proprio ritornare un po' a meditare queste frasi bellissime di San Filippo Ripeto, un santo poco conosciuto ma molto importante per il nostro tempo e al quale io sono molto legato e devoto Tra l'altro appunto proprio in maggio capita la sua festa quest'anno sarà pochi giorni dopo la Pentecoste e sento che la vita di questo santo è una vita strettamente legata al dono dello Spirito Santo A volte si sente parlare in giro in tanti modi e in tante occasioni di riscoprire il dono dello Spirito, riscoprire questo grande dimenticato in effetti perché in alcuni periodi della Chiesa non si parla dello Spirito Santo e forse questo è anche un bene perché effettivamente ecco, che cosa significa parlare correttamente dello Spirito Santo? Pochi lo sanno e quelli che lo sanno di solito tacciono Così come ha cercato di fare San Filippo un uomo innamorato di Dio, ripieno di Spirito Santo che non ha parlato molto d'altronde voi sapete nel Vangelo si dice che Maria appunto la tutta santa era ricolma dello Spirito Santo infatti nel Vangelo Maria quanto parla pochissimo ecco, se volete un segno importante per riconoscere il dono dello Spirito è il silenzio perché lo Spirito è ineffabile non si può raccontare, non si può descrivere per cui ecco, le persone ripiene di Spirito Santo di solito si riconoscono anche attraverso questa caratteristica di me dicono che io parlo molto quindi Spirito Santo ne ho poco purtroppo lo invochiamo nel desiderio di poter realizzarlo ecco, quanto amore si pone nelle creature dice San Filippo tanto amore si toglie a Dio ecco, questa è un'altra frase di San Filippo che ci aiuta a comprendere meglio che cosa significa vivere questo tempo di Pasqua e di preparazione al dono dello Spirito Santo questa settimana inizieremo la novena più immediata di preparazione allo Spirito sapete che l'unica novena liturgica che abbiamo nella nostra liturgia è proprio quella di preparazione alla festa della Pentecoste si è diffusi molto sono diffuse molto tante forme di devozione più o meno comprensibili e anche accettabili non so se voi conoscete però da parroco mi capita spesso di dover requisire fogli, foglietti insomma in parrocchia che inneggiano alla tal devozione alla tal altra devozione ma che poi non hanno niente di cristiano o comunque hanno molto poco di cristiano spesso sono forme un po' così sincretistiche ecco di religiosità per cui ecco bisogna stare un po' attenti a cadere nella singola forma devozionale che non sia autorizzata dalla Chiesa o non sia autorizzata anche non soltanto dalla Chiesa nella storia uno dice ah ma nel 1300 è stato sì ok però cerchiamo di confrontarci con la Chiesa di oggi ebbene nella Chiesa di oggi l'unica novena che si fa in un modo generalizzato ed è prevista per tutta la Chiesa cattolica è la novena della Pentecoste state attenti che purtroppo però in Italia questa novena è stata un po' accorciata perché avendo spostato la festa dell'ascensione dal giovedì alla domenica successiva ecco invece che nove giorni sono rimasti sette questo è un piccolo problema che speriamo prima o poi si possa risolvere in Italia no? questo delle festività che sono state trasferite alla domenica c'è stato un periodo che era stata trasferita anche l'Epifania ma quella poi non si è riusciti a mantenerla di domenica perché le devozioni popolari erano molto forti speriamo anche la festa dell'ascensione possa essere riportata al suo giorno al suo giorno vero che è appunto il giovedì della sesta settimana della quinta sì, tra la quinta e la sesta domenica del tempo di Pasqua e proprio questa novena questi nove giorni qualcuno dirà no ma Don Davide ti sei sbagliato esiste anche la novena di Natale attenzione la novena dell'Immacolata ecco la novena di Natale esiste in forma liturgica ed è vero ma letteralmente non è una novena perché le antifone liturgiche che preparano al Natale sono solo sette quindi ci mancherebbero due testi poi qualcuno la allunga facendola cominciare già il 16 di dicembre insomma poi ci mette il 24 la vigilia insomma alla fine vengono fuori nove giorni così come la novena dell'Immacolata sì, è diffusa molto tradizionale ma non esiste un testo liturgico della liturgia nel senso proprio dell'Eucarestia della Messa con tradizione antichissima ecco certamente l'unica vera tradizione liturgica legata alla festa dell'Immacolata è il canto del Tota Pulcra che appunto può essere validamente fatto per nove giorni proprio per prepararsi a questa festa però la festa di Pentecoste è proprio sancita nella liturgia con testi antichissimi per i nove giorni dall'ascensione alla Pentecoste ecco allora vogliamo invocare il dono dello Spirito di Dio perché ci aiuti come dice San Filippo a renderci conto che più amore poniamo nelle creature più ne togliamo a Dio questa è una frase che ci crocifigge vi ricordate no? San Filippo Neri dice no bisogna essere allegri dobbiamo gioire avere pazienza però stiamo attenti a porre amore nelle cose o nelle creature porlo significa appunto donare tutto il nostro cuore e porlo in un modo esagerato chiaramente San Filippo non ci esorta alla freddezza ci mancherebbe proprio lui che esorta alla gioia e alla spensieratezza e alla possibile no non l'impossibile ma ecco San Filippo vedete ci provoca ancora una volta dice ma siamo sicuri che questo è amore quello che io sento per una persona sento per un caro o per un un hobby o per un lavoro o per uno svago no? ci sono tante forme di amore per un animale domestico per noi sentiamo tante forme di amore ma ricordiamoci bene che il vero amore è tributabile solo a Dio dovrebbe essere riservato solo a Dio il vero amore quello proprio profondo vero sincero radicale ogni invadente perché? perché lo spirito è l'amore lo spirito di Dio è l'amore e per cui è solo l'amore per Dio che ha degni dignità di essere chiamato tale e all'acquisto di un amore per Dio non c'è più vera e più breve strada che staccarsi dall'amore per le cose del mondo ancor piccole e di poco momento e anche dall'amor di se stessi amando in noi più il volere e il servizio di Dio che la nostra soddisfazione e il nostro volere ecco se c'è qualcuno che desidera staccarsi dalle cose del mondo dice San Filippo provi a staccarsi dall'amor proprio soprattutto dall'amare il proprio volere il proprio la propria soddisfazione ecco siamo di fronte a cose impossibili come vedete siamo di fronte alla sfida alla sfida come è possibile che un uomo il quale crede in Dio possa amare altra cosa che Dio sentite quant'era innamorato di Dio San Filippo da potere spronarci ad avere questo amore profondo vero senza pudore senza la paura di essere fraintesi perché un amore vero e sincero per Dio è un amore dice San Filippo a chi veramente ama Dio non può avvenire cosa di più grande dispiacere quanto di non avere occasione di patire per lui ecco allora il desiderio dell'amore di Dio ci porta fino a questo estremo dell'offrire tutto dell'offrire quello che siamo la nostra vita non basta solamente onorare quelli che sono superiori a noi questo amore per Dio ci permette di capire che c'è un di più c'è un di più in qualsiasi affetto umano in qualsiasi esperienza che viviamo noi nella vita quotidiana facciamoci questa domanda ma io amo qualcuno più di Dio e allora San Filippo ci dice stiamo attenti perché di solito questo amore per noi che non è l'amore per Dio è un amore che trova un segnale trova un segnale di allarme che può allarmarci e dice San Filippo di solito il tasto il tasto più importante per capire meglio cosa vuol dire l'amore di Dio è l'umiltà sentite cosa dice sull'umiltà non basta solamente onorare i superiori non basta dare onore a quelli che sono più grandi di noi beh sì questa è una cosa giusta non è una cosa sbagliata onora anche il comandamento dice onore il padre e la madre cioè chi è più grande di noi chi è più esperto di noi chi è superiore a noi dal punto di vista anche funzionale o da un punto di vista anche di esperienza di vita chi è più saggio di noi è giusto onorarlo però dice San Filippo state attenti bisogna onorare anche quelli che sono uguali a noi questo è già un po' più difficile no? perché di solito tra pari c'è più competizione è difficile che ci sia l'onorare chi è pari a noi non solo bisogna onorare anche quelli che sono inferiori a noi a e quindi bisogna onorare tutti dice San Filippo bisogna cercare di essere il primo ad onorare e capite che c'è poco spazio per il giudizio no? in questa in questa proposta che San Filippo ci fa per acquisire il dono dell'unità bisogna prendere le distanze da se stessi e dalla propria capacità razionale dalla propria capacità di giudizio di conoscenza di sapienza è un cammino questo quello che stiamo percorrendo in questi giorni vogliamo chiedere il dono dello Spirito Santo perché ci aiuti a trovare un modo per uscire da questa mentalità che ci separa gli uni dagli altri che ci spinge ad essere diffidenti ad essere sempre pronti a giudicare sempre pronti a capire a voler sapere l'umiltà dice San Filippo e quando ti accorgi che uno è disposto ad onorare una persona che gli è superiore ma anche un suo uguale ma anche uno che è inferiore ed è sempre il primo a partire con questo atteggiamento del rendere onore agli altri capite quanta pazienza ci vuole per fare questo perché dentro di noi c'è la ragione giustamente che ci spinge a vivere quotidianamente le cose e a cercare di crescere maturare nell'autonomia a questo piccolo grande se vogliamo ostacolo spirituale che nell'astuzia nella furbizia spesso ci sta un disprezzo degli altri un disprezzo delle persone un disonorare un mancare di rispetto e allora dice San Filippo e questa non è la strada di Dio non è neanche la strada della gioia figlioli miei prendete bene in mente le mie parole piuttosto pregherei Dio che mi mandasse la morte addirittura una saetta che il pensiero che mi siano tributate delle dignità desidero bene lo spirito e la vertù dei cardinali dei papi ma non già le loro grandezze ecco questa santa umiltà di cui ci parla San Filippo Dio sempre ha ricercato nei cuori degli uomini lo spirito di umiltà un sentire poco di sé non vi è cosa che più dispiace a Dio che l'essere gonfiato della propria stima ricordate San Paolo anche nella lettera sempre ai filippesi che ci sta accompagnando nella preghiera spirituale in questo tempo dedicato allo Spirito Santo a San Filippo Neri lo dice in modo molto chiaro è il capitolo 2 il capitolo famoso in cui racconta e riporta quell'inno a Gesù Cristo che noi usiamo nella liturgia delle ore il sabato pomeriggio nei primi vespri della domenica quell'inno bellissimo che comincia con le parole Cristo Gesù pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio ebbene proprio introducendo questo canto San Paolo nella lettera dei filippesi ci esorta a dire abbiate state attenti alla stima che avete di voi stessi cercate sempre di controllare che la vostra stima dell'altro sia superiore alla stima di voi stessi abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù ecco vogliamo proprio dedicare questa preghiera alla giornata di oggi in questo tempo in cui ci apprestiamo a invocare il dono dello Spirito per comprendere bene qual è la vicenda dello Spirito Santo nella vita di Gesù Gesù infatti pur essendo consustanziale del Padre della grande natura di Dio non considerò un furto o una rapina lo spogliarsi dell'uguaglianza con Dio anzi piuttosto scelse di assumere la condizione di un servo per essere simile agli uomini e non solo ma come capita agli uomini si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce per essere piccolo per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome che è sopra ogni altro nome perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre ecco questa parola finale ci dà il senso di tutto l'inno bellissimo che è un inno attraversato dal filo conduttore della piccolezza diremmo citando Santa Teresa del bambino Gesù la piccola via ebbene questa piccolezza si conclude con queste parole a gloria di Dio Padre lo dice anche Gesù nel Vangelo di Matteo quando gli uomini vedono le vostre opere buone e danno gloria a Dio sottointeso e quindi non a voi allora lì c'è il seme del regno dei cieli auguri e buona preparazione alla festa di Pentecoste e che lo Spirito Santo sia dentro ciascuno di noi con pienezza Ave Maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino in cammino la tenerezza del tuo vero amore puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore di Pentecoste di Pentecoste il tuo vero amore